Le note della musica brasiliana con Salma Hernandez, il gusto messo in scena invece dalle sapienti mani di Pietro Zito, lo scopo totalmente benefico. Una serata di grandi emozioni, quella andata in scena nell'orto di antichi sapori a Montegrosso, nella borgata andriese, si sono fusi alla perfezione sapori, musica e beneficenza. Tutto il ricavato infatti è andato a sostegno del progetto La Grande C del Calcit di Andrea, un progetto che ormai da alcuni anni permette un'assistenza completa a chi deve confrontarsi con una malattia oncologica. Un evento a cui ci tenevamo, un po' per conseguire una raccolta fondi a cui noi ci teniamo, di cui abbiamo bisogno, per raggiungere gli obiettivi della Grande C. Stiamo costruendo tante progettualità, tante professionalità, continuiamo a costruire tutto ciò che l'utenza ci chiede e di cui necessita. Ovviamente questo è un anno particolare perché ci si avvicina al quarantesimo anniversario del Calcit. È un anno di preparazione perché il prossimo anno con i 40 anni del Calcit cercheremo di costruire qualcosa di ancora più articolato. Una serata in cui ha vinto la partecipazione ma soprattutto l'importante ruolo di coordinamento del Calcit, una condivisione che ha coinvolto partner privati e neogastronomici, ma anche la musica degli eventi di Gezzina a cura di Stefano Porziotta con il ritorno sulla scena della voce e delle percussioni di Salmer Nandes, accompagnata dalla chitarra di Luigi Rane e dal basso di Giuseppe Bassi. La musica delle emozioni, stiamo parlando della musica delle periferie, la musica del Brasile. Italo Calvino parlava di fantasia e creatività e ricorre il centenario di questo grande poeta italiano e io sono contentissimo di poter, nel nostro piccolo, offrire questo tipo di situazione che penso che sia davvero unica, la sinergia tra solidarietà, cultura, musica e buon cibo. L'occasione è stata perfetta anche per sottolineare il grande lavoro che il progetto di assistenza del Calcit, la Grande C, sta sviluppando sul territorio con circa 350 interventi già effettuati nei primi sei mesi dell'anno 2023. L'anno scorso, il 2022, è stato il primo anno che abbiamo praticamente assistito, abbiamo fatto 150 interventi circa sui pazienti che hanno problematiche oncologiche. Quest'anno però questi numeri sono assolutamente diversi e molto più importanti perché al 30 giugno, ho ricevuto ieri dai nostri collaboratori i dati, abbiamo ben 330 interventi effettuati solamente nel primo semestre del 2023.